Ah, come va? Come stai? Pronto? Sì. Questa sera? Sì, nessun problema. Se non va adesso fa tardi alla riunione! Non importa, è la riunione che sta avvenendo da me in questo momento. Oh no, 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 sta arrivando Selina, cosa facciamo? Salute. Salute. E perché sei così nervoso? Si può sapere? No, non sono nervoso, ma attento! Apri la portiera. No! Voglio vederlo con i miei occhi, che non c'è nessuno. No, 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 posso spiegarle! Voglio proporti di venire a lavorare per me. A una condizione. Ah, a una condizione, sentiamo. Ecco, mi dia la possibilità di restare qui con il cane di mia cugina. Qui i cani non sono ammessi. Io resto, se resta anche il cane. Nicolás, poi devi darmi il tuo cellulare. Perché? Il tuo si è rotto? No, stupidino. Devi darmi il tuo numero, così restiamo in contatto, no? Mi sa che le piace tanto, tanto. Bene, forza, dimmi. Tieni. Oh, il sole, le nuvole, grazie. È molto carino. Però a me piacciono i ragazzi più grandi. Vede, in questa ambasciata ognuno fa quello che vuole. E io ho bisogno di qualcuno che abbia l'assoluto controllo di tutti quelli che entrano ed escono. Sono state chiare? Ho capito perfettamente, sovrima. Da qui non passerà... ...nemmeno una mosca. Fermo! Avanti, fatti sotto, fatti sotto! Prenditela con uno della tua stazza! E chi sarebbe? Basta, ora andate a dormire. Riposatevi. . . . . Grazie a tutti.